e buongiorno a tutte le studentesse e gli studenti che sono qui con noi. Io presento appunto la Clinica in International Protection of Human Rights o in protezione internazionale dei diritti umani, che è un corso clinico di secondo semestre, si sta svolgendo in buona sostanza in questo momento. Dunque la clinica si propone due obiettivi che sono connessi tra loro. Un primo obiettivo è un obiettivo di giustizia sociale, che è quello di promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. E poi un obiettivo didattico che consiste nell'introdurre le studentesse e gli studenti alle tecniche del cosiddetto Human Rights Lawyering. Vi spiego in due parole in cosa ciò consiste e come accade. Dunque la clinica lavora sulla base di progetti che le vengono affidati da dei partner. Negli anni questo ci ha permesso di occuparci di questioni molto varie, di tutela di vittime di crimini di guerra, crimini di diritto contro l'umanità, crimini di genocidio, di rispetto dei diritti umani nel contesto della lotta al terrorismo internazionale, di tutela dei diritti umani delle persone migranti. Questi temi talvolta si sono anche intersecati, come vi racconterò fra poco. Il fatto che lavoriamo, che la clinica lavori in base a progetti, significa che ogni anno la clinica si occupa di questioni di grande attualità, sulla base appunto delle commissioni che arrivano dai partner. Per farvi degli esempi, quest'anno ci stiamo occupando in particolare di rotta balcanica e delle violazioni dei diritti umani commesse dagli stati che si snodano appunto lungo la cosiddetta rotta balcanica e per i due anni precedenti ci siamo occupati delle gravi violazioni dei diritti umani e dei crimini internazionali commessi a danno dei migranti in Libia. E poi così a ritroso trovate un elenco dei progetti di cui ci siamo occupati sul sito del Dipartimento. Il corso è diviso in tre parti. La prima parte è evidentemente una parte frontale. Studiamo il diritto internazionale dei diritti umani, studiamo la metodologia di ricerca nel diritto internazionale dei diritti umani e ci si prepara, ci prepariamo ad affrontare il tema scelto per l'anno. La seconda parte del corso consiste nella ricerca e nella stesura di un rapporto sul tema scelto, commissionato dal partner con cui la clinica lavora. Quest'anno ad esempio, dato che il tema principale è quello della rotta balcanica, le studentesse e gli studenti della clinica stanno scrivendo, stanno ultimando la stesura di un rapporto sul rispetto dei diritti umani lungo i confini italo-sloveni, sloveno-croati e croato-bosniaci. In questa fase le studentesse e gli studenti imparano alcune delle tecniche fondamentali dello human rights lawyering a cui facevo riferimento prima. Imparano a scrivere rapporti sui diritti umani, imparano a redigere cosiddetti human rights briefs secondo gli standard internazionali più elevati, ossia secondo gli standard propri delle più importanti ONG internazionali, ad esempio Human Rights Watch con cui del resto abbiamo anche collaborato due anni fa o secondo gli standard propri delle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di monitoraggio dei diritti umani. In questa fase la clinica inoltre incontra i professionisti che lavorano sul tema scelto e incontra anche altre cliniche che si occupano di temi affini. In questi mesi, vi faccio alcuni esempi, la clinica ha organizzato in cooperazione con le cliniche dell'Università di Catania e di Pisa Sant'Anna un ciclo di incontri sulla rotta balcanica con avvocati che rappresentano i migranti intrappolati lungo la rotta balcanica personale delle ONG e delle associazioni che lavorano sul campo ad esempio abbiamo appena incontrato il Danish Refugee Council incontreremo il Center for Peace Studies croato e naturalmente Asgi che su questo tema è uno degli attori principali in Italia abbiamo incontrato giornalisti, abbiamo incontrato un giornalista del Guardian che ha peraltro appena vinto un importantissimo premio per un reportage di cui è stato autore sulle gravi violazioni dei diritti umani a danno dei migranti in Croazia e poi incontriamo cliniche straniere, ad esempio abbiamo incontrato la clinica di Lubiana che è evidentemente in Slovenia e via dicendo questi scambi arricchiscono il bagaglio culturale di chi frequenta la clinica sul tema scelto che può alla fine dirsi un esperto in qualche modo di quel tema terza parte del corso, una volta aver redatto i rapporti la clinica partecipa a un ricorso strategico sul tema dell'anno cosa è un ricorso strategico? si tratta di un'azione dinnanzi a tribunali interni o internazionali o meccanismi internazionali di garanzia con l'intento di denunciare violazioni dei diritti umani su questioni attualissime e urgenti perseguendo strade giuridiche innovative, creative, nuove con l'obiettivo di proporre nuovi standard, stimolare revirmo giurisprudenziali vedere affermata una certa interpretazione delle norme mai accolta prima per farvi degli esempi la clinica ha partecipato a ricorsi strategici innanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani alla Corte Penale Internazionale è intervenuta in quasi procedimenti alle Nazioni Unite di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di fronte a un suo organo che si chiama l'Ombudsman del Comitato delle Sanzioni e di fronte al Comitato ONU per l'eliminazione di ogni discriminazione nei confronti delle donne dunque in questa fase le studentesse e gli studenti costruiscono sul rapporto redatto nella seconda fase del corso e imparano a scrivere atti giudiziari che verranno depositati presso giurisdizioni internazionali ed ecco il Dipartimento di Giurisprudenza la clinica è stata così la seconda in Italia in contemporanea con l'Università di Torino a partecipare a un procedimento di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e credo che di questo dobbiamo essere grati alle studentesse e agli studenti della clinica per l'incredibile lavoro svolto in un procedimento che sta per arrivare tra l'altro a sentenza ci siamo quasi sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse a danno dei migranti nei centri di detenzione libici gli studenti e le studentesse imparano pertanto a redigere atti giudiziari di altissimo livello come se si facesse un tirocinio presso l'Avvocatura Generale dello Stato o la Procura della Corte Penale Internazionale o si lavorasse presso uno dei migliori studi internazionali che si occupano di diritti umani e di diritto internazionale da ultimo cosa serve per partecipare alla clinica evidentemente serve una buona base di inglese se si conosce un'altra lingua o almeno la si sa leggere tanto meglio serve aver studiato il diritto internazionale dei diritti umani cioè preferibile ma non è assolutamente propedeutico a seguire il corso e poi serve molta passione a questo punto io prego le studentesse e gli studenti che siano interessati a scrivermi e lascio la parola a una ex studentessa della clinica del corso dell'anno scorso, Ginevra Marchesi che saprà certamente più di me raccontarvi cosa vuol dire essere, partecipare alla clinica in International Protection of Human Rights Ginevra ti cedo la parola Buongiorno a tutti innanzitutto vi ringrazio per questo incontro perché le cliniche rappresentano davvero un'offerta formativa unica per noi studenti come già vi ha anticipato la professoressa Riccardi io sono Ginevra e ho partecipato ho fatto parte della clinica sulla protezione internazionale dei diritti umani e la mia esperienza l'esperienza che ho maturato all'interno della clinica mi ha permesso oltre ad acquisire e approfondire le conoscenze nell'ambito della tutela dei diritti umani principalmente e soprattutto grazie alla redazione dei rapporti COI io personalmente mi sono occupata del rapporto sul Mali mentre i miei colleghi si sono occupati del rapporto sulla Nigeria e da ultimo di un parere legale finalizzato alla presentazione di un contenzioso strategico presso la CEDA direi che proprio grazie a questi lavori ovviamente sotto la guida grazie alla guida della professoressa che noi studenti abbiamo imparato una metodologia di ricerca delle fonti da utilizzare nei rapporti per individuare le informazioni rilevanti che siano quanto più possibili oggettive ed imparziali è una metodologia che secondo me rappresenta per lo studente uno strumento in qualche modo professionalizzante che avvicina lo studente a un ambito professionale direi che sarebbe però riduttivo inquadrare la clinica esclusivamente come strumento professionalizzante in quanto rappresenta secondo me un valore culturale molto profondo perché ha consentito a noi studenti di avvicinarci a normative di paesi africani oggetto della nostra indagine molto lontane da noi che però ci ha consentito di completare e comprendere in modo pieno la difficoltà, la complessità del processo del fenomeno migratorio per quanto riguarda invece la mia esperienza personale mi sento assolutamente di dire che il lavoro fatto alla clinica è stato un'occasione personale di crescita che ritengo il solo studio universitario non consente di raggiungere perché il lavoro ti mette di fronte ti mette alla prova in modo costante non soltanto con te stesso ma anche con gli altri colleghi perché devi risolvere devi collaborare con gli altri studenti per risolvere le problematiche giuridiche che ovviamente emergono e quindi direi che superare questo metodo di didattica prettamente formale sperimentando metodi dialettici, interattivi consente a noi studenti di sviluppare capacità critiche di analisi molto importanti e in ultimo da ultimo direi e concludo come ho già sentito è già stato detto mi sento di consigliare agli studenti che qualora avessero dubbi sulla compatibilità del lavoro della clinica con la preparazione degli esami universitari non posso negare che il lavoro è veramente molto impegnativo però la professoressa lo ha strutturato in modo tale da permettere la preparazione degli esami e quindi mi sento assolutamente di consigliarlo e con questo concludo grazie grazie a lei si prego no no volevo santo ringraziare Ginevra e ripassarti la parola evidentemente grazie grazie a tutti grazie a tutti